Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Giorgio e oggi sono andato a Rifuso di Ervis in Val Pellice e sono salito anche su di lì un pezzo, quasi arrivato al colle stavano a 100 metri e mi sono deciso di tornare indietro perché non avevamo tempo per fare il nostro piano originale in realtà era andare a mangiare qui che però c'era tanta gente che si è andati all'osteria di là è veramente bella qua la valle, è stupenda e niente, spero che questo video ci sia piaciuto volevo informarvi anche che questo probabilmente sarà no, è praticamente certo, sarà la mia ultima escursione estiva diciamo del 2020 e ci vedremo, magari faremo ancora qualche escursione invernale però comunque, cioè adesso tra due settimane, non quella prossima ma quella dopo incomincio la stagione scista, quindi rimanete connessi sul mio canale e ci vedremo al prossimo video, bella ragazzi ciao 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 ciao